Good morning a tutti voi e buona giornata. Oggi iniziamo il capitolo 12 di Luca. Intanto si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda e Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli guardatevi bene dal lievito dei farisei che l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato né di segreto che non sarà conosciuto quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. E poi va avanti ma mi fermo a questi primi versetti perché altrove Gesù paragona il regno di Dio al lievito e questo è l'unico altro caso in cui parla ancora del lievito ma in modo diverso cioè dice che anche il male può portare la massa a lievitare anche il male in questo caso l'ipocrisia può lievitare tantissimo ed è una cosa che ha detto perché veniamo via da tre giorni in cui c'è stato un lungo attacco di verità di trasparenza nei confronti dei farisei dei dottori della legge cioè di chi diventa una mascherina di chi diventa un attore di chi si mette la maschera Gesù veramente non va a braccetto proprio con ipocrisia. Togliamoci la maschera di fronte a Dio, togliamoci la maschera di fronte agli altri. Forse è una delle missioni più ardue nella vita quello di essere se stessi, di accogliersi nei propri limiti e nelle proprie fragilità come dico spesso ma anche nella propria bellezza, nel proprio essere un prodigio al cospetto di Dio. Ecco Gesù sta veramente puntando in alto sta puntando al fatto che ognuno di noi diventi ciò che è una meraviglia al cospetto di Dio. Evviva e togliamoci le maschere di che abbiamo da mascherarci di fronte a Dio che dirà dirà più avanti nei versetti che non ho letto anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Scusate, non abbiate paura perché dovete mettere una maschera di fronte a Dio. Lui vi ama, lui si prende cura di voi e allora siamo semplicemente noi stessi e proviamo a diventare il volto evangelico di noi stessi. Bene, le cose belle della giornata di ieri ci sono state tante occasioni per me di incontri, un incontro al mattino molto molto bello e poi abbiamo fatto progettazione con gli Argonauti, poi abbiamo partecipato a un'altra progettazione con la Boa. Tutto un fermento che dice la voglia di partecipare alla vita, la vita sociale, alla vita di questo quartiere. Ale, buona giornata a voi!